Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esau, e gli disse, figlio mio. Gli rispose, eccomi. Riprese, vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire. Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esau. Andò dunque Esau in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe, ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esau, portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine, va subito al gregge e prendimi di la due bei capretti, io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte. Rispose Giacobbe a Rebecca a sua madre, sai che mio fratello Esau è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione, invece di una benedizione. Ma sua madre gli disse, ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esau, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe, con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse, padre mio. Rispose, eccomi, chi sei tu, figlio mio. Giacobbe rispose al padre, io sono Esau, il tuo primo genito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio, come hai fatto presto a trovarla, figlio mio. Rispose, il Signore me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco gli disse, avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esau o no. Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse, la voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esau. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esau, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora, tu sei proprio il mio figlio Esau. Allora disse, porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse, avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò all'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco. Quando arrivò dalla caccia Esau suo fratello. Anche egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto, si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica. Gli disse suo padre Isacco, chi sei tu? Rispose, io sono il tuo figlio primogenito Esau. Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse, chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me la portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà. Quando Esau sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre, benedici anche me, padre mio. Rispose, è venuto. Tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione. Riprese, forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte. Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione. Poi soggiunse, non hai forse riservato qualche benedizione per me. Isacco rispose e disse a Esau, ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te che cosa mai potrò fare, figlio mio? Esau disse al padre, hai una sola benedizione padre mio? Benedici anche me, padre mio. Ma Isacco taceva ed Esau alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse, sarà la tua sede e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo gioco dal tuo collo. Esau perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esau, si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Smaffurono riferite a Rebecca le parole di Esau, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse, Esau tuo fratello vuol vendicarsi di te uccidendoti. Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce, su, fuggi a Carranda mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata, finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un sol giorno? Poi Rebecca disse a Isacco, Ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita?